Ciao a tutti, io sono Butcher3 e nel video di oggi vi darò 10 consigli su come giocare a World of Tanks Blitz. Ora questo sarà il primo di una serie di 5 o 6 video probabilmente e partiremo dalle basi fondamentali del gioco arrivando fino ai trick un pochettino più complicati, qualcosa di un pochettino più difficile da mettere in pratica. E parlando di pratica, chiaramente la pratica è una base fondamentale per riuscire a capire e a utilizzare queste tecniche, ma chiaramente se partite dalla pratica senza avere comunque delle conoscenze di base non saprete che cosa dovrete fare o comunque vi troverete a spendere partite su partite, perdite su perdite, solo cercando di capire da che parte siete girati. Quindi senza altri indugi andiamo a vedere il primo consiglio. Rispetta il tuo ruolo. Fin dall'inizio della partita dovete sapere assolutamente cosa andrete a fare sul campo di battaglia e per fare questo dovrete sapere le tipologie di carro. Se il vostro carro è un carro leggero, medio, pesante o cacciacarri, ognuno di questi avrà una mansione ben specifica sul campo di battaglia e finché rimarrete più aderenti possibile alle caratteristiche del carro, riuscirete a far sì che il carro renda ai suoi massimi. Per esempio se siete un carro leggero vorrete andare a spottare per il vostro team perché il carro leggero ha la capacità di spot più ampia rispetto a qualsiasi altro carro e la mobilità per poter spottare gli avversari e togliersi di mezzo prima di essere colpiti. Di sicuro se siete un carro leggero non vorrete piazzarvi a campeggiare in fondo alla mappa, cosa che invece è per i cacciacarri sicuramente. I cacciacarri hanno la facoltà di potersi posizionare in fondo alla mappa e attendere per poter avere un colpo buono sugli avversari perché un colpo solo riesce ad essere molto efficace e la loro mansione è comunque quella di non essere spottati fino all'ultimo secondo o comunque di cercare di essere più conservativi possibile. In ogni caso di sicuro non è la posizione quella in fondo alla mappa per un carro leggero. E sicuramente i cacciacarri non si porteranno in prima linea, non possono sostenerla perché la prima linea è dei carri pesanti. I carri pesanti devono stare in prima linea dove c'è il grosso della battaglia dove si sprecano i colpi e anche i punti vita. I carri pesanti hanno questa mansione. Sicuramente un carro pesante non dovrà assolutamente trovarsi a rincorrere un carro leggero o un carro medio, cosa che invece è per i carri medi stessi che sono i carri più versatili che si ha sul campo di battaglia. Sono carri che possono dare sostegno ai carri pesanti, possono sostenere i carri leggeri, possono rincorrere i carri in giro per la mappa, possono andare a cercarsi i cacciacarri. Insomma sono dei carri molto flessibili che hanno queste facoltà e queste mansioni. Ora, quello che voglio cercare di farvi capire è che non dovete assolutamente prendere un carro e pensare di poter posizionarvi in qualsiasi punto della mappa e poterlo sostenere, perché ogni carro dà il meglio di sé se rispettate quelle che sono le caratteristiche del carro stesso. Non fermarsi all'aperto per sparare. Sembra assurdo a dirsi ma in realtà è ancora più assurdo quando lo si vede e vi assicuro che lo vedo molto molto spesso. Non dovete assolutamente fermarvi all'aperto, in un spiazzo molto aperto per sparare un avversario, soltanto perché avete visto un carro che vi sfrecciava di fronte. Questo farà sì che voi attirerete immediatamente attenzione dai carri avversari, perché non c'è niente di meglio di un carro facile da colpire. Tutti quanti vi punteranno, vi renderete conto nella frazione di un secondo che il primo punto utile dove coprirvi diventerà distantissimo da raggiungere, perché comincerete a essere traccati sul posto, comincerete a prendere una serie infinita di colpi fino al punto di essere distrutti prima ancora di riuscire a prendere copertura. Questo non è assolutamente quello che vorrete. La prima cosa che vorrete fare e che ci collega al prossimo punto è usare le coperture. Prima cosa da fare in partita, prendete posto dietro a qualcosa che vi copra e dopodiché pensate a sparare. Stare all'aperto è la cosa più deleteria che potete fare. Vi darà solo modo di essere distrutti e portare a casa un colpo portato a segno e un carro distrutto. Sapere la prossima mossa. È molto relazionato a quello che abbiamo appena detto, forse è il passaggio successivo di quello che abbiamo appena detto. Cioè nel momento in cui voi fate qualcosa, un'azione, vi esponete, vi portate in un'altra posizione, dovete sapere assolutamente quale sarà la prossima mossa. Se vi state portando verso un avversario per distruggerlo, poi dovete sapere la vostra corsa, dove andrà a finire, dietro quale ostacolo vi andrete a coprire per difendervi dai colpi avversari, oppure quale sarà il vostro prossimo obiettivo di seguito a quello che avete appena distrutto. Non fate mai nulla senza sapere cosa accadrà dopo. Ogni vostra mossa deve avere un inizio, un'azione ed una fine. Tutto questo vi permette di avere chiaro in testa che cosa andrete a fare. Se poi ci sono delle variabili nel mezzo, le valuterete in corsa. Però intanto avrete la leggerezza nella testa di potervi concentrare solo su quelle che sono le variabili di fronte alle quali vi troverete durante l'azione. Questo vi permette di avere la mente molto più chiara e più concentrata su quello che vi accade intorno. Resta con il tuo team. Non allontanarti o isolarti, come si suol dire nella mappa, distante dai tuoi compagni, dove i tuoi compagni non hanno linea di tiro per supportare una vostra azione, dove vi trovate quindi nel rischio di essere da soli, sotto un'imboscata da parte degli avversari che non sapete essere in quella posizione della mappa e quindi rendere inutile la vostra presenza sul campo di battaglia. State sempre con almeno uno o due compagni del vostro team. Se poi magari il vostro team chiama per un push tutti insieme, ancora meglio andate a dare supporto. Ma non isolatevi, non pensate di poter prendere un fianco della mappa e pensare di poter cechinare tutti gli avversari e vincere la partita, sono fiabe. In questo modo spesso e volentieri vi trovate, come dicevo, a farvi fare un'imboscata degli avversari o comunque non avere supporto da parte dei vostri compagni e rinunciare a una potentissima arma che sono tutto il resto del vostro team. Non esporti troppo per sparare. Non c'è assolutamente bisogno di riuscire a vedere tutto il carro avversario per poi scegliere con calma dove colpirlo, su che punto debole del carro. Assolutamente, dovete invece esporvi per riuscire a colpire il primo punto debole possibile e poi portarvi in copertura. Ricordatevi sempre che più voi vedete del carro avversario, più il carro avversario vede di voi e quindi tutti i vostri punti deboli. Prima ancora di riuscire a colpire il carro avversario, voi verrete colpiti a vostra volta e questo non vi dà assolutamente nessun vantaggio. Un buon modo per riuscire a imparare a fare questa cosa qua è con il prossimo consiglio. Pre-puntare prima di esporsi. Dovete imparare a esporvi quel tanto che basta, pre-puntare il punto debole dell'avversario e portarvi in copertura. Attendendo qualche secondo, il vostro reticolo di mira si stringerà sufficientemente da avere una precisione sul colpo tale che nel momento in cui vi esporrete di nuovo per colpire il carro avversario avrete già il cannone puntato sul punto debole dell'avversario e la vostra dispersione sarà ridotta ai minimi termini, quindi con tantissima possibilità di portare a segno il vostro colpo. Questo vi permetterà di riuscire a essere più efficaci e prendere meno colpi di ritorno possibile. Concentrare il fuoco o focus fire. Questa è una regola d'oro di questo gioco. Ricordatevi assolutamente sempre, nel momento in cui state puntando un carro o comunque i vostri compagni stanno sparando un carro, aiutateli e sparate al medesimo carro anche voi. In questo modo concentrando il fuoco sul medesimo carro riuscirete a, se non distruggerlo, a portarlo praticamente in fin di vita. E in questo modo quel carro cercherà immediatamente di portarsi in copertura e rimanerci il più possibile. Rilocarsi, scappare, fare qualsiasi cosa tranne che continuare la propria azione di attacco. Quello che voi volete è fermare i carri avversari dall'azione di aggressione, dal venirvi contro. E lo potete fare concentrando il fuoco. Anche in situazioni di mischia, dove ci sono magari più obiettivi nello stesso punto e vi state esponendo in molti nella stessa zona. Cercate di visualizzare qual è il carro che è stato preso di mira e prendetelo di mira a vostra volta. Prima riuscite a buttare fuori un carro dal campo di battaglia e più facile sarà riuscire a arrivare alla vittoria. Priorità, distruggere i carri deboli. Non vi deve bastare avere tanti carri avversari deboli. Dovete avere tanti carri avversari distrutti. Perché più cannoni togliete dal campo di battaglia e prima riuscirete ad avvicinarvi alla vittoria. Avere un carro avversario con anche solo un HP di vita rimanente è un carro che continua a sparare. È un carro che può cambiare l'esito di una partita. E questo vi può portare da una situazione di praticamente vittoria a una situazione di perdita completa della partita. Ultimo consiglio, guardate sempre la minimappa. La minimappa è un'arma come il vostro cannone. Vi dà una serie infinita di informazioni e le informazioni sono quelle che vi permettono di poter far funzionare il cervello e capire che cosa dovete fare. Se voi andate in giro e cominciate solo a sparare a quello che trovate in giro, ah beh, allora i vostri compagni hanno ragione di chiamarvi bot o robot. Perché nel momento in cui voi sparate solo a quello che vedete, solo un robot fa una roba del genere. Quindi, pensate a guardare la minimappa. Nella minimappa vi vengono date tutta una serie di informazioni. Vi viene mostrato dove è posizionato il vostro team, dove sono posizionati i carri avversari, come si stanno muovendo e come si sta muovendo paradossalmente anche il vostro team. Perché molto spesso può succedere che durante l'azione, nel concitamento, nella concentrazione, nello sparare agli avversari, non vi rendiate conto che i vostri compagni se ne sono praticamente andati o hanno cambiato posizione, lasciandovi isolati sul campo di battaglia. Questa è una cosa che voi non volete assolutamente e quindi dovete tenere sempre sott'occhio l'azione guardando la minimappa. E con quest'ultimo consiglio siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che questo video vi sia stato utile e se lo è stato e se vi è piaciuto non dimenticate di scriverlo sui commenti sotto al video e, allo stesso modo, non dimenticate di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Così sarete sempre aggiornati quando usciranno i prossimi video. E fino a quel momento, ragazzi, de che fisso, be a fiori!